Salve a tutti, siamo qui oggi con il dottor Matteo Rampin, psichiatra, psicoterapeuta, esperto di terapie brevi, con cui oggi voglio andare a parlare di alcuni argomenti rispetto alle terapie brevi, poiché è autore di diversi libri sull'argomento. Buongiorno a tutti, grazie per aver invitato. Iniziamo? Prego. Allora, uno dei suoi campi di studio è proprio quello del linguaggio del cambiamento, volendo utilizzare il titolo di un famoso libro di Paul Watzlawick, in altre parole come aiutare l'altro a cambiare usando le parole. Nel suo libro, bellissimo, terapie apparentemente magiche, lei fece una cosa molto interessante, analizzò le trascrizioni di diversi terapeuti brevi, molto famosi all'epoca, in generale nella storia delle terapie brevi, per andare a vedere quali erano le loro tecniche e tattiche, anche comunicative, per aiutare le persone a cambiare. In particolare, peraltro ricordo anche il suo consiglio sull'andare a analizzare i discorsi dei grandi oratori. Allora, la mia prima domanda è questa. Quali sono dei terapeuti e dei comunicatori in generale che l'hanno particolarmente colpita per il loro uso della comunicazione e che insegnamenti le hanno trasmesso, che le sono poi stato utili all'interno del suo lavoro con i pazienti? È una domanda ardua. Vorrei rispondere però in una maniera un po' strana forse, e cioè ho imparato molto da persone che non esercitavano la psicoterapia o non la esercitavano in forma ufficiale. Ho imparato molto da persone che facevano altri mestieri ed erano però dei comunicatori straordinari. Il primo grandissimo comunicatore, in cui io mi sono imbattuto, fu un supplente di educazione fisica, di ginnastica, si diceva a quell'epoca, in prima media. E questo venne dentro in palestra e venne solo due volte. Però lasciò su tutti noi un'impronta indelebile per il modo in cui fu capace di sovvertire tutti gli schemi, i paradigmi di come si pone un insegnante nei confronti dei ragazzi, ragazzini, adolescenti. Esercitava, si chiamava Paride, mi ricordo, questo insegnante. E lui era capace di sfruttare al massimo l'effetto di prima impressione, credo. Perché i primi secondi, l'impatto che ha esercitato su tutti noi, sono stati veramente incisivi. E da lui ho imparato questo, cioè l'importanza che può dare la prima impressione. Naturalmente l'effetto di prima impressione che lui esercitava, fece tutto il contrario di quello che uno si sarebbe dovuto aspettare. E quindi dal modo in cui si relazionava col bidello della palestra, al modo in cui si relazionava con noi, al modo in cui ci diceva che cosa fare o cosa non fare. E non si può descrivere, anche perché sono passati i 40 e rotti anni. Però ecco, la caratteristica tipica di tutto il suo agire era questo rompere gli schemi. Allora, quando si rompono gli schemi all'istante, nel primo istante in cui si interagisce con una persona, da quel momento in poi la persona si aspetterà sempre che gli schemi vengano interrotti o sospesi in qualche maniera. E da lui ho imparato questo. Un altro ambito molto importante dal quale si può ancora, credo, imparare la comunicazione spinta, avanzata, è quello dei religiosi. Allora, Nietzsche sappiamo che diceva i migliori psicologi sono i preti, no? Si riferiva ai preti di quell'epoca, perché adesso ho idea che sia più raro trovarne di così bravi. E non parlava di psicologi, nel senso di persone laureate in psicologia, parlava di persone che appartenendo al clero erano, sono, meno, ma comunque continuano a essere i depositari di una sapienza bimillenaria su come funziona l'animo umano, la natura umana. Allora, io per molti anni, quando studiavo medicina a Padova, frequentavo anche settimanalmente un religioso monaco, un frate, della Basilica di Sant'Antonio, che era padre Giovanni Luisetto, che confessava alle sei del mattino e uno arrivava lì dentro per parlare con lui e trovava già la fila di decine di persone, quasi tutti studenti universitari. E lui cosa faceva? Lui era capace di dire le cose in una maniera quasi come se fossero scolpite nell'aria. Lui riusciva a essere estremamente essenziale, estremamente sicuro delle cose che enunciava, perché non erano cose sue, naturalmente. Lui citava gli autori che hanno Sant'Agostino, le Sacre scritture eccetera, ma lo faceva senza avere l'atteggiamento dell'autoritas. Allora da lui ho imparato la differenza tra autorevolezza e autorità, che è anche una cosa di cui si parla spesso. Lui comunque sanciva delle verità, però erano calate dall'alto senza essere calate dall'alto. Quindi anche qui c'era una coesistenza degli opposti che mi pare sia una caratteristica tipica dei grandi comunicatori. Un altro religioso, tuttora vivente, molto anziano, è un altro francescano che adesso vive a Urbino, che è padre Livio Zanin, il quale mi ha colpito invece per un'altra cosa straordinaria, che era la sua capacità dell'ascoltare le persone, ascoltarle sul serio. Allora quando uno ti dice guarda se hai bisogno di parlarmi vieni a mezzogiorno e poi resta lì. Lui restava con la persona in questa stanza fino alle 3 del pomeriggio, senza mangiare, ok? Né lui né chi va. Allora l'attenzione focalizzata e persistente e permanente nel tempo, la capacità di ascolto di questa persona come anche dell'altro di cui parlavo un attimo fa e quindi la piena disponibilità ad ascoltare la persona, ad ascoltarla sul serio. Questa è una cosa che dopo forse casomai ci torniamo, perché l'ascolto non è una tecnica, deve essere mosso da un impulso reale a mettersi a disposizione dell'altra persona. Poi se dobbiamo guardare a delle autorità nel campo della comunicazione, allora io andrei molto indietro nel tempo e consiglierei a tutti i terapeuti di studiare a fondo il modo in cui Seneca comunicava, ok? Lui scrive lettere molto famose e le lettere noi dobbiamo considerare che fossero l'equivalente di una telefonata o di una cosa Skype eccetera al giorno d'oggi. Parlava con persone molto lontane, quindi scriveva lettere, ma scrivere significa pensare esattamente a quello che dici, ok? Significa coltivare il labor lime, cioè l'ingegno, la fatica con cui tu devi limare le cose che dici, le cose che scrivi, la prosciugarle dalle cose inutili, arrivare all'essenziale, metterle in forme che ti si imprimano nella memoria e quindi da Seneca io ho cominciato a studiare, imparare, magari avessi imparato, comunque studio la sintesi, la pertinenza, la coerenza nelle cose che si dicono. E infine se dovessi parlare di comunicatori in epoca più recente credo Winston Churchill per anche lui la pregnanza e la fulmineità nell'espressione dei concetti, il modo in cui una frase possa imprimersi nella memoria di generazioni, insomma deve essere studiato perché questi autori sono menieri inesauribili che nei mestieri fondati sulla comunicazione debbono per forza essere continuamente studiate. Fantastico, ci rivedo tutti gli elementi che poi ovviamente possiamo ricondurre al lavoro che facciamo con i nostri pazienti.